I cittadini romagnoli siano tranquilli, nonostante il caldo e la mancanza di piogge, l'acqua non verrà meno. A fornire garanzie nella settimana che si annuncia tra le più calde di quest'estate 2017, dove allarme acqua in molte città d'Italia, è Massimiliano Pederzoli, presidente del CER, canale Emiliano Romagnolo, che assicura approvvigionamento idrico sia per uso agricolo che per quello idropotabile. Anche se adesso in questo periodo nel Po i livelli sono abbastanza bassi, però è difficile che il Po si secchi, per usare un termine molto blando. Noi, oltre a portare in Romagna 50 metri cubi al secondo di acqua per uso agricolo, collaboriamo anche ormai da anni con Romagna Acque, col comune di Ravenna, che è stato il precursore di questi accordi quando aveva direttamente in gestione l'uso dell'acquedotto, portiamo in Romagna anche acqua per uso idropotabile, per cui credo che i cittadini romagnoli possano stare tranquilli, l'acqua del Po arriva in Romagna per l'agricoltura innanzitutto, ma anche per gli usi idropotabili, proprio per supportare l'acquedotto di Romagna in questi periodi, in questi estati, dove ci sono grosse difficoltà relative alla siccità che sta martoriando le nostre terre, così come altre terre italiane, però ecco il canale Emiliano Romagnolo è in grado di svolgere benissimo questo compito di garantire ai cittadini romagnoli l'approvvigionamento idrico.